Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare sulla rete autostradale regionale. Possibili disagi in A1 per presenza di veicolo fermo o in avaria tra Firenze in Pluneta e Firenze Sud nella carreggiata verso Roma. Stessa situazione in A12 tra Colle Salvetti e Rosignano per chi viaggia verso Rosignano. Spostiamo i FIPILI rallentamenti per traffico verso Firenze tra BVO, SGC, FIPILI, Dramazione Pisa e Ponte d'Era Ovest. Ci troviamo nella carreggiata verso Firenze. Siamo al traffico ferroviario per una riprogrammazione dell'offerta commerciale. Il treno 19053 Empoli-Siena quest'oggi è cancellato e sostituito con un bus con le stesse fermate del treno. Siamo al traffico urbano di Firenze. Tra i lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli di asfaltatura in via Righini, i lavori per la pista ciclabile in via Pio Fedi e nuovi allacci all'acquedotto in via del Proconsolo e via della Capponcina. Buona versione Toscana Info, un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.